ben trovati amici del centro meteo italiano l'anticiclone cede il passo al transito di una piccola saccatura con nuvolosità in aumento vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 7 febbraio al mattino addensamenti localmente compatti al nord ovest e sulle regioni meridionali con qualche nebbio foschia lungo il corso del po al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali tempo stabile soleggiato al centro sud salvo qualche possibile precipitazione tra calabria e sicilia in serata e inottata cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud con molte nubi sparse alternate a qualche schiarita ma con tempo stabile dando uno sguardo alle temperature sia le minime che le massime rimarranno stabili o tenderanno a diminuire tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app meteo un saluto da parte del centro meteo italiano